La concessionaria L'Auto vi augura buone feste. 35 anni e non sentirli. È il caso di dirlo per la società pallabolistica Oxilium, il cui compleanno è coinciso con la festa di fine stagione, che come ogni anno raduna in una delle palestre del capoluogo tutte le ragazze del sudalizio diretto da Cesare e Salerno. Quest'anno è stata la volta della palestra del liceo classico. Qui è prodotto Babbo Natale in persona, che ha omaggiato d'una ad una le atleti e i partecipanti ai campionati di categoria. E fra un regalo e l'altro è stato stirato il bilancio dal 2017. 35 anni lunghi, di impegno, dove abbiamo fatto giocare, ci auguriamo di divertire tante ragazze a pallavoro, dove abbiamo conquistato anche risultati importanti. Non siamo stanchi, continuiamo così. Ormai siamo in tempo di bilancio per questo 2017, che sta per concludersi. Siamo presenti in tutti i campionati FIPAV e PGS. In PGS siamo già qualificati alla fase regionale della categoria propaganda, che ci vede da anni dominatori, anche a livello nazionale, perché abbiamo portato a casa due titoli nelle ultime stagioni. E poi in federazione, Under 13, Under 16, Under 18, con la nostra prima squadra, tra l'altro siamo contenti perché in 4 su 5 campionati siamo nelle prime posizioni. Perciò questo è uno stimolo per continuare a impegnarci, per lavorare bene e per portare avanti la nostra proposta sportiva. A margine della stagione 2016-2017, e conclude il direttore Cesare Salerno, le squadre Auxilium sono pronte a ripartire per la prossima avventura sotto rete. L'obiettivo è puntare sempre più in alto. Noi adesso stiamo puntando molto a livello giovanile. Siamo entrati nella scuola, perché riteniamo che possiamo dare un contributo molto importante. Siamo scuola regionale di pallavolo. E quest'anno, grazie ai nostri allenatori, laureati in senso motorio, siamo presenti in tante scuole del comprensorio cittadino e non. Secondo me dobbiamo continuare a lavorare con i giovani.